Posso sfruttare le assi rotte! Devo solo scegliere il momento giusto! Tre, due, uno, adesso! E ora il laser! Perfetto! Che cosa è successo? Prendiamolo! No, restate qui a finire la discussione! Non puoi scappare, giovane umano! L'Ommitrix si è già ricaricato! Mi servirà una bolla più grande! Ehi, pianta! La farai del male a qualcuno! Ok, ok! Non ti interessa, sei stato chiaro! Quella leva di fronte a noi serve per deviare i treni verso le miniere? La leva di scambio! Mentre giriamo intorno al passo del serpente, ringraziate che nessuno abbia toccato la leva o il nostro sarebbe diventato un viaggio di sola andata verso il ponte crollato sopra la gola del tacchino e avremmo fatto una fine orretta! Avete sentito? Ci schiatteremo nella gola! Accidenti! Sembra troppo che abbiamo preso la negazione fatale! Un tempismo massimo per improvvisare! Soprattutto perché il nostro treno è automatizzato e nessuno può tirare il treno! Ti offro due scelte, umano! Puoi arrenderti o puoi condannare tua cugina a non salire mai più su un treno! Lasciami stare, brutto mostro! Gwen, ti avevo spinto fuori, eri al sicuro! Non potevo lasciarti con questi tizi! Arrenditi, mutante! La lascerò andare e tu verrai trattato bene come un essere umano domestico! Non sono la tua pedina di scambio! Ti ho mostrato la via più semplice, accetta! Ok, ma lasciala andare! Saggia scelta! Gwen! Proviamoci! Gwen! Apri il portale così possiamo andare via! Hai detto che l'avresti lasciata! Infatti l'ho lasciata! Ah, tu folle! Sta buono! Quella rete è stata progettata per infliggere dolore quando ti muovi! Prendi la via più semplice! Vai! Notevole! Colpiscilo ancora! Cosa? Adesso tocca a voi scendere giù dal treno! Lascia testare mia cugina! Non vale la pena rischiare per acciuffarti, giovane umano! Tu... Tu sei uguale a Diamante! A noi interessava il denaro! Ma ci sono altri che da te vorranno molto di più! Ben! Ben, siamo al ponte! Ci sono! Non ci sono! Fermiamo il treno della locomotiva! Andiamo! Come lo fermiamo? Io non vedo nessun pulsante! La vecchia leva del freno! Puoi tirarla davvero? Tu hai un'idea migliore? Poi ha detto che verrà qualcun altro a darmi la caccia! Dai, avanti! Chi può battere il mitico Ben Tennyson? Nessuno! Non lo so! Oggi avrei potuto perderti e quei tizi sono stati solo i primi! Il team Tennyson può affrontare qualunque sfida l'universo vorrà lanciargli! E direi che vi siete meritati un premio! Cosa volete? Tranquillo, nonno! L'impegno è già una ricomparsa! Squalo, motiva! Squalo, motiva! Squalo, motiva! Squalo, motiva! Squalo, motiva! Ben può imparare solo una cosa!